buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi è venerdì 6 agosto e come avete visto manuel stamattina ha fatto il vaccino per il covid cosa c'è? niente è più caldo e adesso stiamo andando a prendere la colazione per tutti e per il momento sta bene ve lo faccio vedere è un po assonnato è un po male dappertutto perché stanotte ha dormito male però comunque tutto sommato per il momento sta bene e vi terrò poi aggiornati sul sul da farsi su come va la faccenda durante la giornata vi faccio poi sapere se male al braccio penso che sarà quasi scontato che però per il resto comunque poi vi tengo aggiornati adesso andiamo al mcdonald a prendere la colazione ciao 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 Grazie a tutti. 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 Vi faccio vedere il risultato. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti.